Il tema della visita è misericordia e compassione. Il tema della visita è misericordia e compassione. Andando a trovare le vittime, il Santo Padre vuole rassicurarle che non sono dimenticate che preghiamo insieme. Anche la preghiera del perché è quella dei bambini, che chiedono perché al Padre, non tanto per avere risposte, quanto per sottolineare la nostra vicinanza, il nostro legame con il Padre. Non vediamo l'ora che il Santo Padre si reichi a Tacloban e Palo, ma vorrei anche ricordare il suo incontro con le famiglie e con i giovani. Anche questo è un segno di misericordia e compassione perché non sono infatti solo i tifoni, i terremoti, non sono solo queste calamità o simili eventi che colpiscono e distruggono la vita, quanto i problemi quotidiani della povertà, dell'ingiustizia, della corruzione. Ecco i tifoni quotidiani. Problem of poverty, injustice, corruption. These are the daily typhoons.